De Camerone, quinta giornata, ottava novella. Nastagio degli Onesti, amando una dei traversari, spende le sue ricchezze senza essere amato. Vassene pregato da suoi a Chiassi. Qui vi vede cacciare a un cavaliere una giovane e ucciderla e divorarla da due cani. Invita i parenti suoi e quella donna amata da lui a un desinare, la quale vede questa medesima giovane sbranare e, temendo di simile avvenimento, prende per marito Nastagio. Come la lauretta si tacque, così, per comandamento della reina, cominciò Filomena. Amabili donne, come noi è la pietà comendata, così ancora in noi è dalla divina giustizia rigidamente la crudeltà vendicata. Il che a ciò che io vi dimostri è materia videa di cacciarla del tutto da voi, mi piace di dirvi una novella non meno di compassione piena che di lettevole. In Ravenna, antichissima città di Romagna, furono già assai nobili e gentili uomini, tra quali un giovane, chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di lui ed un suo zio senza stima rimase ricchissimo. Il quale, siccome dei giovani avviene, essendo senza moglie, si innamorò di una figliola di Messer Paolo Traversaro, giovane e troppo più nobile che esso non era, prendendo speranza, con le sue opere, di doverla trarre a mar lui. Le quali, quantunque grandissime, belle e laudevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi, pareva che gli nocessero. Tanto cruda e dura e salvatica gli si mostrava la giovinetta amata, forse per la sua singolar bellezza o per la sua nobiltà, sia altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che gli piacesse le piaceva. La qualcosa era tanto a Nastagio gravosa a comportare, che per dolore più volte, dopo essersi doludo, gli venne in desiderio d'uccidersi. Poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare, o se potesse, d'averla in odio come ella aveva lui. Ma in vano tal troppo alimento prendeva, per ciò che pareva che quanto più la speranza mancava, tanto più moltiplicasse il suo amore. Perseverando, adunque, il giovane, e nello amare e nello spendere smisuratamente, parve a certi suoi amici e parenti che egli, se e il suo avere parimenti fosse per consumare, per la qualcosa più volte il pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna partire e in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare, per ciò che così facendo scemerebbe l'amore e le spese. Di questo consiglio più volte fece Vefena a Stagio, ma pure, essendo da loro sollecitato, non potendo tanto dir di no, disse di farlo. E' fatto fare un grande apparecchiamento, come se in Francia o in Spagna o in alcun altro luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da suoi molti amici accompagnato di Ravenna uscì e andossene a un luogo fuor di Ravenna forse tre miglia, che si chiama Chiassi. E qui gli fatti venire padiglioni e trabacche disse a color che accompagnato l'aveano che star si volea e che essi a Ravenna se ne tornassono. Attendatosi adunque a Quivi, Nastagio cominciò a fare la più bella vita e la più magnifica che mai si facesse, or questi or quegli altri invitando a cena e a desinare come usato a sera. Ora avvenne che venendo quasi all'entrata di maggio, essendo un bellissimo tempo, egli è entrato in pensiero della sua crudel donna, comandato a tutta la sua famiglia che solo il lasciassero per più poter pensare a suo piacere, piede innanzipiede se medesimo trasportò pensando infino nella pigneta. Essendo già passata presso che la quinta ora del giorno, e esso ben un mezzo miglio per la pigneta è entrato, non ricordandosi di mangiare né d'altra cosa, subitamente gli farve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna. Perché, rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per vedere che fosse, e maravigliossi nella pigneta veggendosi. E oltre a ciò, davanti, guardandosi, vide venire per un boschetto assai folto dal bucelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane, ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche da pruni, piagnendo e gridando forte mercè. E oltre a questo le vide a fianchi due grandi e fieri mastini, li quali duramente appresso correndole, spesse volte crudelmente, dove la giugnevano, la mordevano. E dietro a lei vide venire sopra un corsier nero, un cavalier bruno, forte nel viso crocciato, con uno stocco in mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane, minacciando. Questa cosa un'ora maraviglia e spavento gli mise nell'animo, e ultimamente compassione della sventurata donna, dalla qual nacque desidero di liberarla da si fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma senza arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d'albero in luogo di bastone e cominciò a farsi incontro a cani e contro al cavaliere. Ma il cavaliere che questo vide gli gridò di lontano, Nastagio, non ti impacciare, lascia fare a cani a me quello che questa malvagia femmina ha meritato. E così dicendo, i cani, presa forte la giovane nei fianchi, la fermarono. Il cavaliere sopraggiunto smontò da cavallo, al quale Nastagio avvicinato si disse, io non so chi tu ti sei, che me così conosci, ma tanto ti dico che gran viltà ed un cavaliere armato volere uccidere una femmina ignuda e averle i cani alle coste messi, come se la fosse una fiera salvatica. Io per certo la difenderò quant'io potrò. Il cavaliere allora disse, Nastagio, io fui d'una medesima terra teco, eri tu ancora piccol fanciullo, quando io, il quale fui chiamato Messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di Costei, che tu ora non sei di quella dei traversari e per la sua fierezza e crudeltà andossi la mia sciagura che io undì con questo stocco il quale tu mi vedi in mano come disperato muccisi e sono le pene eternali dannato. Nestette poi guaritempo che costei la quale della mia morte fu lieta oltremisura morì e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta dai miei tormenti non pentendosene come colei che non credeva in ciò aver peccato ma meritato similmente fu e è dannata alle pene dell'inferno nel quale come ella discese così ne fu e a lei e a me per pena dato a lei di fuggirmi davanti e a me che giaco tanto l'amai di seguitarla come mortal nemica non come amata donna e quante volte io la giungo tante con questo stocco col quale io uccisi me uccido lei e apro la perischiena e quel cuor duro e freddo nel quale mai né amore né pietà poterono entrare con l'altra interiore insieme siccome tu vedrai incontanente le caccio di corpo e do le mangiare a questi cani ne sta poi grande spazio che ella siccome la giustizia e la potenzia di dio vuole come se morta non fosse stata risorge e da capo incomincia la dolorosa fugga e i cani e io a seguitarla e avviene che ogni venerdì in su questa ora io la giungo qui e qui ne fu lo strazio che vedrai e gli altri di non credere che noi riposiamo ma giungola in altri luoghi nei quali ella crudelmente contro me pensò e operò essendole d'amante rivenuto un amico come tu vedi me la conviene in questa guisa tanti anni seguitare quanti mesi ella fu contro me crudele adunque lasciami la divina giustizia mandare esecuzione né ti volere opporre a quello a che tu non potresti contrastare nastaggio udendo queste parole tutto timido divenuto e quasi non avendo pelo addosso che arricciato non fosse tirandosi a dietro e riguardando alla misera giovane cominciò pauroso a aspettare quello che facesse il cavaliere il quale finito il suo ragionare ha guisato un cane rabbioso con lo stocco in mano corse addosso alla giovane la quale inginocchiata e da due mastini tenuta forte gli credava mercè e a quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passolla dall'altra parte il qual colpo come la giovane ebbe ricevuto così cadde boccone sempre piagnendo e gridando e il cavaliere messo mano a un coltello quella aprì nelle reni e fuori tratto nel cuore e ogni altra cosa da torno a due mastini il gittò li quali affamatissimi incontamente il mangiarono nestette e guari che la giovane quasi in una di queste cose stata fosse subitamente si levò in pie e cominciò a fuggire verso il mare e i cani appresso di lei sempre lacerandola e il cavaliere rimontato a cavallo e ripreso il suo stocco la cominciò a seguitare e in picciola ora si dileguarono in maniera che più un astagio non gli poteva vedere il quale avendo queste cose vedute gran pezzastette tra pietoso e pauroso e dopo alquanto gli venne nella mente questa cosa dove di molto poter valere poiché ogni venerdì avvenia perché segnato il luogo a suoi familiari se ne tornò e appresso quando gli parve mandato per più suoi parenti e amici disse loro voi m'avete lungo tempo stimolato che io da mare questa mia nemica mi rimanga e ponga fine al mio spendere e io son presto di farlo dove voi una grazia mi impedriate la quale è questa che venerdì che viene voi facciate sì che messer Paolo Traversari e la moglie e la figliola e tutte le donne loro parenti e altre chi vi piacerà qui sieno a desinarmeco quello perché io questo voglia voi il vedrete allora a custor parve questa assai piccola cosa a dover fare e a Ravenna tornati quando tempo fu coloro invitarono le quali Nastagio voleva e come che dura cosa fosse il potervi menare la giovane da Nastagio amata pur vandò con l'altra insieme Nastagio fece magnificamente a prestare da mangiare e fece le tavole mettere sotto i pini d'intorno a quel luogo dove veduto aveva lo strazio della crudeldonna e fatti mettere gli uomini e le donne a tavola si ordinò che appunto la giovane amata da lui fu posta a seder di rimpetto al luogo dove doveva il fatto intervenire essendo adunque già venuta l'ultima vivanda e il rumor disperato della cacciata giovane da tutti fu cominciato a udire di che maravigliandosi forte ciascuno e domandando che ciò fosse e nuno sapendo il dire levatisi tutti i diritti e riguardando che ciò potesse essere videro la dolente giovane e il cavaliere e cani neguaristette che essi tutti furon quivi tra loro il rumore fu fatto grande e a cani e al cavaliere e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi ma il cavaliere parlando loro come Anastagio aveva parlato non solamente gli fece indietro tirare ma tutti gli spaventò e riempie di maraviglia e facendo quello che altra volta aveva fatto quante donne aveva che ve ne aveva sai che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere e che si ricordavano dell'amore e della morte di lui tutte così miseramente piagnevano come se a sé medesime quello avessero veduto fare la qualcosa al suo termine fornita e andata via la donna e il cavaliere mise costoro che ciò veduto aveano in molti e vari ragionamenti ma tra gli altri che più di spavento ebbero fu la crudel giovane da Anastagio amata la quale ogni cosa distintamente veduta avea e udita e conosciuto che a sé più che altra persona che vi fosse queste cose toccavano ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso Anastagio perché già le pare a fuggire dinanzi da lui adirato e avere i mastini a fianchi e tanta fu la paura che di questo le nacque che a ciò che questo lei non avvenisse prima tempo non si vide il quale quella medesima sera prestato le fu che ella avendo l'odio e l'amor tramutato una sua fida cameriera segretamente Anastagio mandò la quale da parte di lei il pregò che gli dovesse piacere d'andare a lei perciò che ella era presta di far tutto ciò che fosse piacere di lui alla quale Anastagio fece rispondere che questo gli era grado molto ma che dove le piacesse con onor di lei voleva il suo piacere e questo era sposandola per moglie la giovane la qual sapeva che da altrui che da lei rimaso non era che moglie di Anastagio stata non fosse gli fece rispondere che le piacea perché essendo ella medesima la messaggera al padre e alla madre disse che era contenta ad essere sposa di Anastagio di che essi furono contenti molto e la domenica seguente Anastagio sposatala e fatte le sue nozze con lei più tempo lietamente visse e non fu questa paura cagione solamente di questo bene anzi si tutte le ravignane donne paurose ne divennero che sempre poi troppo più arrendevoli e piaceri degli uomini furono che prima state non erano